A questo punto direi di iniziare a vedere invece quelli che sono dei tracker certificate che avete portato sul mercato in questi giorni, si parla di tracker certificate su indici di borsa quindi due domande, la prima che magari si pongono gli spettatori che non sono troppo avezi ai mercati e soprattutto ai certificati, cosa sono i tracker certificate? Questa è la cosa più semplice da spiegare perché il tracker certificate che rientra nella categoria più ampia dei certificati a capitale non protetto, a me piace chiamarli più a partecipazione che a capitale non protetto perché secondo me è un po' fuorbiante chiamarli non protetto perché si indica un rischio forse spropositato rispetto a quella che è la definizione della categoria, quindi certificati a partecipazione sono la forma di certificato più banale perché è una replica lineare del sottostante qualunque questo sia, replica 1 a 1 al rialzo al ribasso non c'è leva, non c'è un k al rialzo, non c'è un flora al ribasso e si segue direttamente al netto delle eventuali commissioni di gestione e degli aggiustamenti per il cambio, si segue direttamente il sottostante e in questo caso Riccardo hai anticipato tu, siamo andati a trattare qualcosa che non era propriamente nostro perché chi ci segue da un po' sa che ci siamo specializzati in soluzioni di investimento tematiche per lo più su questo segmento, sul segmento Delta One, sul segmento replicante 1 a 1 in questo caso come sempre analizzando il mercato, analizzando il polso del mercato e le preferenze degli investitori abbiamo notato che in questo 2022 ovviamente c'è stato un po' più di scetticismo sui mercati, tanta liquidità trattenuta sui conti, tante vendite e abbiamo notato che sbilanciarsi su un investimento tematico che è notoriamente più volatile in base anche al tema che si seleziona, c'è stato un po' di scetticismo nei confronti di questa scelta di questa strategia di investimento nel 2022, quindi volevamo dare una soluzione di investimento che si adattasse proprio ai tempi che stiamo vivendo avete fatto un quadro di mercato perfetto ma direi che emerge nettamente il fatto che stiamo vivendo una fase di mercato quanto mai incerta di nuovo dove le parole vanno ad aggiustare quello che i mercati fanno in un paio di settimane sembra molto tutto studiato a tavolino quello che sta succedendo al minimo rialzo si riabbassano i toni quindi l'incertezza è massima e volevamo proporre degli strumenti semplici degli strumenti su sottostanti ben conosciuti stiamo parlando di S&P e Dow Jones per l'America e Futsimib il nostro indice per l'Italia Jacopo però ecco io mi metto nei panni dell'investitore e quindi ho come sempre le considerazioni uno, questi strumenti sono e mi viene da dire a pieno titolo alternativi a quegli ETF che in modo passivo vanno a replicare il Futsimib piuttosto che l'S&P 500 piuttosto che il Dow Jones con una differenza, il vantaggio fiscale la possibilità di andare a recuperare minus valenze poi gli ETF che vanno a lavorare sugli indici sono i due tipi distribuzione e accumulazione quindi distribuiscono i dividendi piuttosto che vanno a incamerarli e vanno a aumentare il valore della quota come funziona con i Tracker Certificate i dividendi vengono distribuiti o no? esistono varie versioni soprattutto in altri paesi ma abbiamo deciso di optare per la versione chiamiamola così, ad accumulazione cioè noi ci basiamo su un indice sottostante nella versione Net Total Return quindi vengono anche chiamati indici a performance nel senso che la performance risente anche di stacco dividendi che vengono reinvestiti direttamente nell'indice Net Total Return quindi al netto della tassazione quindi non si riceve nulla l'investitore non riceve nulla paga una commissione annuale che è dello 0,4% ma il dividend yield del sottostante viene trasformato in performance diretta sul sottostante ed è per questo che se ne apriamo uno vediamo che la quotazione del sottostante differisce in maniera significativa da quella che invece vediamo tutti i giorni ecco una considerazione da fare da sottolineare abbiamo visto, abbiamo parlato molte volte di investment certificate panieri di azioni piuttosto che di indici piuttosto che che hanno dei livelli di barriera la classica protezione condizionata quindi può essere che magari il sottostante perde il 10 e il 20 per cento l'investitore non perde nulla anzi si trova nello scenario positivo in cui va a guadagnare ecco una nota da dire attenzione se voi prendete questi indici questi certificati e l'indice sottostante perde il 10 per cento voi perderete il 10 per cento virgola hanno però dei prezzi molto fair perché adesso vediamo questo tracker certificate open end sul Fuzzimib che ha un prezzo denaro a letra di 97,15 97,35 quindi è già sotto la pari sta scontando anche quelle che sono state le flessioni è il calo di quotazione Fuzzimib delle ultime ore degli ultimi giorni ecco si possono studiare dei pack volendo con questi strumenti per andare a smussare il timing si può aspettare che magari si arrivi in un'area che si reputa più fair e a quel punto acquistare ecco si possono fare sia delle strutture di investimento di ampio e lungo periodo sia delle strutture che magari sono meno forti di quelli che sono gli strumenti tipici a leva ma anche delle operazioni trading ma assolutamente direi per chiarire anche quella che è un'importante differenza tra gli strumenti che di solito trattiamo che sono i cash collect tradizionali ma comunque i certificati a capitale condizionatamente protetto un motivo per cui non mi piace troppo la definizione di capitale non protetto è che veramente si tende ad indicare uno strumento come quelli che stiamo vedendo come più rischioso in realtà una specificazione il sottostante è un indice quindi lo diciamo spesso non può fallire cosa che invece può avvenire su un basket di titoli worst off per esempio la volatilità secondo è significativamente più contenuta terzo c'è una trasparenza massima di prezzo uno è più facile quotarlo per noi e infatti è riflesso nello spread che stavamo vedendo prima due c'è la trasparenza massima perché a differenza di quanto accade invece nei certificati a capitale condizionatamente protetto Riccardo lo sai bene quanto me non ci sono altre variabili che vanno ad impattare sul prezzo cosa che invece è importante da tenere in considerazione quando si prende un certificato a capitale condizionatamente protetto volatilità tassi e più eccetera eccetera ecco quindi le variabili che impattano di là sono da tenere in considerazione possono far sì che ci sia disallineamento rispetto all'andamento del sottostante in questo caso è proprio tutto alla massima trasparenza l'indice sottostante si muove di X il certificato risponde con X al netto della commissione di gestione Jacopo sbaglio se vado a banalizzare è così gli investment certificates tradizionali quelli a capitale condizionatamente protetto danno il loro meglio nelle fasi di moderato rialzo o moderato ribasso ok quindi anche la fase attuale potrebbe essere interessante perché non so vedevamo prima il quadro tecnico dell'S&P 500 destinato ad andare al fosso se io ho degli strumenti con delle barriere più profonde di quello che sono i livelli target riesco a non incorrere in perdita questi strumenti invece potrebbero diventare degli strumenti interessantissimi dalla primavera 2023 in avanti perché a quel punto se i mercati così come dicono in tanti dovessero riprendere la via maestra dei rialzi e farlo come tipicamente lo fanno alcuni indici con rialzi a doppia cifra su base anno ecco questi riescono a dare il loro meglio hai detto come al solito tutto perfettamente il certificato a capitale condizionatamente protesto nasce per andare a coprire delle esigenze che altri asset class non coprono cioè rendimento in fasi laterali ok lieve rialzo lieve ribasso moderato ribasso ma comunque quella l'esigenza che si va a coprire con strumenti di questo tipo invece prima hai menzionato il pack ma si prestano alle più varie operatività gestioni passive gestioni attive pack ma lo sappiamo hai menzionato tu il pack il pack serve quando e diventa più utile quando proprio in fasi paradossalmente dove si va a scendere per un po' prima di risalire perché poi il pack si basa sulla statistica sappiamo cosa hanno fatto questi indici statisticamente negli ultimi anni motivo per cui abbiamo lavorato a versioni open end quindi anche l'orizzonte temporale è importante un certificato a capitale condizionatamente protetto sta intorno al massimo ai cinque anni di solito in casa nostra forse la maturity media è anche più bassa ma questi sono un altro tipo di strumento l'unica caratteristica che rimane i cinque anni di durata tipicamente sono gli emittenti di stampo anglosassone americano che vanno in quella direzione se non erro ma anche gli italiani dai anche in tesa san paolo unicredit riescono a tirar fuori strutture abbastanza performanti sul lungo unicredit che rimane che rimane in tesa san paolo Grazie a tutti